Sprigionare Legalità è un progetto che nasce dalla collaborazione fra Tribunale e Camera Penale di Vicenza ed alcuni istituti superiori della città. Sono stati coinvolti 150 studenti che hanno vissuto in prima persona i temi della giustizia e attraverso mostre fotografiche e video, sono stati i protagonisti di questo progetto. Dottore, un progetto che vede gli studenti protagonisti? Sì, gli studenti sono i protagonisti perché sono i primi destinatari della nostra esigenza di avvicinare i ragazzi al mondo della legalità e quindi della giustizia. Tutto ciò è l'epilogo di un percorso che è iniziato diversi mesi fa, due anni fa, che ha visto il Tribunale protagonista nel mondo della scuola, sia attraverso progetti che si sono sviluppati all'interno del Tribunale e sia con lezioni, incontri didattici all'interno della scuola. Dottore, un progetto che vede gli studenti protagonisti? I protagonisti sono i lavoratori, sono gli utenti ma anche coloro che creano ciò di cui fruiscono. Quindi è una formazione completa, è una formazione quasi da adulti che grazie al Presidente del Tribunale siamo riusciti su un tema così direccato come la legalità a mettere in piedi con la collaborazione della Camera Penale. Lei ha detto un aspetto simbolico. Ho parlato di aspetto simbolico perché in questo modo i ragazzi entrando nel Tribunale non lo vivono più come un... e operando all'interno del Tribunale non lo vivono più come un potere separato che magari impone e costringe, ma lo vivono come un elemento costruttivo della loro personalità. Cioè l'istituzione diventa un elemento fondamentale dell'educazione della persona. Gli studenti coinvolti sono stati entusiasti di questo progetto? Beh, i ragazzi quando gli si propone una modalità operativa da fare insieme con dei protagonisti reali, quindi mettere insieme la dimensione astratta, separata della educazione, della formazione con la dimensione reale del lavoro e di creare in questo modo sono sempre contenti.